Sarà Francesco Cicchella con il suo spettacolo Diffidate dalle imitazioni show, a chiudere venerdì 30 settembre alle ore 21 gli eventi di Sala Consilina, nell'ambito del progetto di itinerario di religioni e gusti, promosso da 5 comuni del Salernitano, per la valorizzazione delle tradizioni di fede del territorio e per la promozione delle eccellenze gastronomiche locali. Ed è proprio nell'ambito delle iniziative volte a far conoscere le tradizioni religiose con riti celebrativi, in onore del Santo Patrono San Michele Arcangelo, che l'amministrazione comunale di Sala Consilina, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, ha deciso di inserire nell'evento spettacolo nel cartellone degli appuntamenti del progetto finanziato dalla Regione Campania, con Fondi POC 2014-2020 e che vede insieme i comuni di Sala Consilina, Albanella, Casalbuono, Corleto, Monforte e Ottati. L'appuntamento di venerdì torna dopo le serate del 17-18 settembre scorsi, con incontri enogastronomici, con le produzioni settembrine, promosso in collaborazione con la società operaia Torquato Tasso. La serata di venerdì 30 settembre si aprirà alle ore 19, con le premiazioni delle opere vincitrici del Congorso di Pittura Premio Sala. Dopo le premiazioni sul palco allestito in piazza Umberto I, salirà Francesco Cicchella, per regalare al pubblico una serata di puro divertimento e sana allegria con lo spettacolo diffidate dalle imitazioni show.